Professor Monti, il mondo sta cambiando e la sensazione di molti è che il settore agroalimentare influenzerà sempre di più l'economia globale. In qualità di membro dell'Advisory Board del Barilla Center for Food and Nutrition, qual è la sua opinione al riguardo? Se posso dire questa è la ragione per cui, o una delle ragioni per cui ho colto molto volentieri l'invito che mi è stato rivolto di entrare nell'Advisory Board del Barilla Center for Food and Nutrition, essendo io un economista, ma che non si era mai piegato in modo molto specifico e approfondito su queste tematiche. Trovo che i temi che lei ha citato e che il centro ha cominciato ad arare con grande sistematicità, sono temi che sempre di più interesseranno l'economia generale, la macroeconomia, l'economia politica dello sviluppo, le relazioni di commercio internazionale, quindi li vedo anch'io entrare al centro e non alla periferia delle grandi tematiche economiche. E qual è il ruolo dei paesi sviluppati per favorire l'ingresso nel mercato agricolo e il conseguente sviluppo dei paesi più poveri, evitando nuove forme di colonialismo e cercando anche di risolvere il problema della fame? Credo che occorra un mix di politiche, la cooperazione allo sviluppo in forma di aiuti credo che mantenga pur sempre il suo significato, anche se sono state mosse critiche feroci, dalle quali sicuramente c'è molto da prendere. Penso che sia altrettanto, forse in certe situazioni più importante ancora, avere una politica di commercio internazionale da parte dei paesi avanzati che sia più aperta nei confronti delle produzioni dei paesi in via di sviluppo che sono in gran parte produzioni di commodities e di materie alimentari in senso lato. Da questo punto di vista l'Europa ha fatto certi passi nei confronti in particolare dei paesi più poveri, ma credo che la politica del commercio internazionale nei prossimi anni debba contemporaneamente mirare a evitare il diffondersi, il risorgere di forme protezionistiche nel commercio internazionale tra paesi avanzati e contemporaneamente cercare di disarmare ciò che ancora esiste di protezionismo di questi paesi nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Credo che questa sarebbe la migliore forma di aiuto sostanziale allo sviluppo. Poi naturalmente quello che avviene anche nei nostri mercati in termini di grado di concentrazione delle imprese, dei grandi gruppi che sono attivi nell'alimentare o nelle cose collegate all'alimentare finisce naturalmente per avere ripercussioni anche nei paesi produttori. Sì, infatti un'altra domanda che contavo di farle era quali rischi intravede nella eccessiva concentrazione dell'offerta in una o più fasi della filiera agroalimentare. Faccio riferimento per esempio agli OGM o altre situazioni di innovazione che potrebbero nel tempo portare a una riduzione del numero delle aziende presenti sul mercato. Secondo lei il mercato si regolerà da solo o c'è bisogno di qualche intervento? Il mercato ha una buona capacità di autoregolarsi, ma il mercato, qualsiasi mercato esige anche la presenza attenta dei pubblici poteri con regole e con istituzioni per fare osservare quelle regole. Qui siamo nel campo dei controlli sulla concentrazione e sulla concorrenza. Le autorità di concorrenza in vari paesi del mondo da qualche tempo si dedicano con particolare attenzione allo studio di questi fenomeni legati ai mercati alimentari, agli organismi geneticamente modificati e le conseguenze che questo ha sul grado della concentrazione, sul potere d'acquisto etc. E osservo anche perché di questo mi sono molto occupato in passato quando ero commissario alla concorrenza dell'Unione Europea che fortunatamente il grado di cooperazione tra le diverse autorità antitrust del mondo sta fortemente aumentando. Per cui più in sintesi la mia risposta è sì, credo che questo sia un terreno che primo sarà oggetto sempre più di attenzione da parte delle autorità della concorrenza, secondo in modo sempre più coordinato sul piano internazionale. Parlando di sviluppo sostenibile, lei ha la sensazione che le imprese stiano prendendo nella giusta considerazione il problema delle risorse, il problema delle risorse naturali e quindi stiano modificando i loro comportamenti? Mi sembra di sì, mi pare che in questi anni abbastanza rapidamente è aumentato il grado di consapevolezza, mi sembra genuina, al di là della politica, delle relazioni pubbliche e dell'immagine delle imprese in materia di corporate social responsibility e in particolare di quell'aspetto che riguarda la sostenibilità. E noi tutti nella nostra esperienza quotidiana di cittadini, di viaggiatori stiamo vedendo un'attenzione molto maggiore a questi aspetti. credo che questo potrà solo continuare e intensificarsi e io vedo sempre di più il mondo delle imprese nei vari settori considerare questo come un elemento della propria sostenibilità, non solo della sostenibilità del pianeta. In parallelo ci sono evoluzioni molto interessanti legate a questo e che il Barilla Center for Food and Nutrition di nuovo ha approfondito e sta approfondendo come quella su cui ha lavorato in particolare Jean-Paul Fitoussi di nuovi modi per misurare il benessere al di là del prodotto interno lordo che tengano conto di fenomeni importantissimi e finora abbastanza impalpabili che vanno dalla qualità della vita alla sostenibilità per l'appunto. La ringrazio Professor Monti.